Crisi di governo a San Marino. Alleanza Popolare ha infatti ritirato la delegazione che sostiene l'esecutivo ponendo fine alla legislatura e aprendo la strada alle elezioni. Di fronte ai gravi problemi da risolvere, si legge in una nota del partito di maggioranza, specialmente in ambito economico, finanziario e di bilancio pubblico, il Paese merita un governo forte e sostenuto dalla maggioranza unita, mentre si deve purtroppo registrare che le difficoltà già in precedenza rilevate si sono recentemente acuite, giungendo a livelli di conflittualità e divergenze che impediscono di conseguire ulteriori risultati. Il motivo principale dell'apertura della crisi sarebbe dunque riconducibile alla crescente conflittualità tra i partiti di governo, democrazia cristiana, socialisti e democratici, noi sanmarinesi e alleanza popolare. Così attorno a mezzogiorno di mercoledì una delegazione di alleanza popolare si è recata dai capitani reggenti per ufficializzare il ritiro. Ai motivi di insoddisfazione sollevati nell'ultimo anno, continua il partito, emergono esigenze e problemi tali da richiedere l'apertura di una nuova fase per offrire reali opportunità di soluzione alle emergenze. I rappresentanti di alleanza popolare sono stati incaricati dall'Assemblea di intraprendere tutte le vie necessarie ad aprire una nuova fase politica nei modi e nei tempi più adeguati, ma garantendo comunque l'itere di approvazione delle leggi di recepimento dei quesiti referendari.